Andavo in mail in federazione dicendo mi sento solo, non mi sento parte del progetto, che senso ha continuare? Non c'erano veramente i presupposti per, e questo mi dispiace un po' per me naturalmente, ma soprattutto per i tifosi italiani, perché un mondiale come del resto un europeo per il tifoso italiano è qualcosa che non si può cancellare. Io da tifoso non avrei perdonato, non sapendo gli antefatti.